Vincenzo Inverso, di Hashtag per un nuovo inizio, chiede all'amministrazione di partecipare ad importanti progetti di mobilità sostenibile. Inverso scrive, aspetto ancora una risposta alla mia ultima richiesta in merito alla pista biking e running lungo il fiume Tusciano da questa amministrazione francese cieca e sorda. Proseguo informando ulteriormente i cittadini che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il comunicato del Ministero dell'Ambiente che ha aperto i termini di presentazione delle istanze di accesso al programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile promossi dai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il programma incentiva la mobilità urbana, basso impatto ambientale e dei sistemi di condivisione dei veicoli, la propensione al cambiamento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in favore della mobilità sostenibile. Infine, inverso, invita a fare presto. L'intervento è dotato di risorse per 15 milioni di euro. Beneficiari della misura sono i comuni di tutto il territorio nazionale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il prossimo 8 giugno scade il bando.